Buonasera a tutti quanti voi ragazzi e benvenuti sul mio canale ancora una volta e ancora una volta vi porto una storia di Ghost of Tsushima e continuiamo l'avventura principale, la missione principale con la quale comprende che noi dobbiamo far mandare un messaggio allo shogun in Giappone ce la faranno i nostri eroi Jin Sakai e Lord Shimura lo scopriremo durante il video andate nelle descrizioni, troverete tanti altri dettagli e noi ci rivedremo a fine video ciao youtuberani, game e videogioratori benvenuti sul mio canale eccoci qua ragazzi con una nuova avventura di Ghost of Tsushima dobbiamo cercare la baia di Umuji per mandare un messaggio allo shogun per ricevere rinforzi e noi dobbiamo stare a cercare questa baia dovremmo essere vicini però non sono molto sicuro eccola l'ho trovata fermo, ronin dimmi cosa cerchi non sono un ronin mi chiamo Jin Sakai un samurai Lady Sanjo vorrà vedervi è a capo della baia di Umuji vi prego di seguirmi di qua mio signore è importante che parliate con lei ah però lord Sakai ecco lei di Sanjo benvenuto a Umuji un posto ancora sconosciuto ai mongoli per fortuna sono anni che la baia non si tinge di sangue chi sfodera le armi deve vedersela con i miei uomini attieniti a questa regola e non avrai nulla da temere e adesso dimmi come posso aiutarti cerco un contrabbandiere, Goro bene è al pieno di sotto che si scuola la terza bottiglia di Sakai divertiti con lui grazie torna a trovarmi credo che potremo aiutarci a vicenda ah molto probabilmente è difficile l'arte della meditazione no, della mediazione che dico meditazione ah, qua c'è un'altra storia speciale però ragazzi quella ve la porterò la prossima volta devo parlare con lui devi essere Goro siamo tutti qualcuno e voi chi siete? Lord Sakai ah, i samurai sono tutti morti qui ne hai uno vivo mi pare ma con la pazienza al limite Lord Shimura chiede il pagamento del tuo debito è vivo? che cosa vuole? che consegni un messaggio in Giappone una tratta che vendevo molto cara ancora prima del blocco dei mongoli ma tu hai un debito così lo salderai quindi non ho scelta credevo che Komoda avesse cancellato il mio debito con Lord Shimura ecco perché bevevo per festeggiare la fuga per piangere i samurai sono morti difendendo gente come me se la pensi così trova il coraggio e aiutaci a vendicarli ci serviranno molti altri samurai per farlo li avremo quando consegnerai il messaggio di Lord Shimura questa è casa mia entrate non sarà facile superare quel blocco di mongoli avete il messaggio di Lord Shimura? ce l'ha lui al campo sulla costa di Akashima posso farcela ho una barca nascosta vicino a Forte Mitodake la mappa mostra il punto della foresta dove attenderò mappa di Goro vabbè aprici Goro non ce ne andremo finché non avrai pagato il debito no ci penso io sbrigati pensate non avevo chiesto Ronin mio signore che affari avete con Goro? privati beh torneremo qualcuno ha visto mia figlia vi prego diario aggiornato la difficile arte della mediazione scusa dove sei? bah va bene adesso devo raggiungere Lord Shimura bene 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 ragazzi ok possiamo pure andarcene comunque è bel posticino questo eh ragazzi veramente è un bel posticino ok ragazzi siamo vicini a Lord Shimura però io non lo vedo palude della lucciola allora dovrebbe essere qui infatti eccolo eh sì lo spero pure io questi se la dormono che cucina che se la dorme ho trovato Goro a Omugi era ubriaco non più salperà per il Giappone e ripagherà il suo debito sarà anche lusco ma pochi conoscono il mare come Goro consegneranno loro il tuo messaggio esatto Otaro e Giro sono leali e coraggiose presenteranno allo shogun una richiesta di rinforzi Goro è pronto ci aspetta qui vicino per condurci alla barca partiremo al momento opportuno approfittane per prepararti a combattere sì 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 ok e ora ai vostri cavalli siamo pronti signore state allerta e tenete d'occhio il contrabbandiere capisco sempre quando vuoi chiedermi qualcosa sentiamo come hai conosciuto Goro scopri che vendeva seta cinese proibita dallo shogun via di fuoco alla merce lo lasciai andare meritava la frusta ma trovasti una soluzione migliore un abile marinaio può rivelarsi utile ok beh speriamo che ci sia un po' di azione ragazzi perché sennò qui ok facciamo un attimo il quadro della situazione dell'armatura Jinzakai c'ha le corna lo decimora pure e qua facciamo festa dei corna raga però sono più non goli hanno molte navi Goro riuscirà a evitarle tutte? non ha scelta cosa facciamo se ci prendono mio signore? non temere la morte Kotaru vivi con coraggio e ricorda sempre chi hai giurato di difendere stavo parlando io comunque Jin e Lord Shimura eh vabbè mi interrompono mentre parlo Lord Shimura Goro dov'è la tua barca? di qua sono felice che siate vivo signore grazie per voler onorare il tuo debito farò il possibile ma temo che i mongoli affonderanno la barca non appena salverà troppi occhi vigilano sulle acque forse possiamo distraerli scendete proseguiamo a piedi forte Mito Daike mio padre lo sottrasse al clan Yarakawa ora è dei mongoli immagina la loro sorpresa quando due samurai lo riconquisteranno se mettiamo il forte in subuglio le navi si concentreranno su di esso trascurando le acque Goro gli occhi del nemico saranno puntati sul forte salpa appena inizia la battaglia mio signore vi uccideranno pensa solo a consegnare il mio messaggio i cavalli possono farci scoprire si va a piedi lord Sakai un messaggio in fiamme inizia l'avventura ragazzi vediamo lord Simura che stai lì fermo l'armata mongola l'armata mongola è potente ma il nostro attacco li coglierà di sorpresa speriamo vada così al forte sono più numerosi ma non possono attaccare tutti insieme quanto potremo contare sul fattore sorpresa solo finché non vedremo il nemico poi colpiremo mongoli potremmo evitarli volta le spalle al nemico e morirai con la schiena trafitta cioè tu non solo sei pazzo ok a la faccia tua ok ok io penso agli arcieri ragazzi che rompono le balline si ma che fatica però ok morti tutti sono fiero di lottare al tuo fianco lo senti il loro terrore un vero guerriero grazie zio non c'è nessuno resta in allerta dobbiamo superare quella bomba dobbiamo superare quella bomba dove è piannato metiamo il forte a ferro e fuoco le navi mongole devono concentrarsi qui non sugo a la faccia ostra ok ok ci mancava il cane ci mancava mi va tu qui 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 Ora abbiamo tutta la loro attenzione. Senza pietà! Golgo! Golgo! Ok, ragazzi, non so come sto facendo a sopravvivere. Arca marina! Oh, cacchio! Non indietreggiare! Avanti! E chi indietreggia? Corri, Gini, corri! Altri cani, bastardi! Ah! Altri mongoli! Avanti! Fermati solo per uccidere! Accidenti, ragazzi! Oh, mamma mia! Un attimo, arrivo! Devo un attimino riprendere da tutto sto frastuglio. Samurai, Gini Ilf, mi niente volen! Ah! 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 Alla torre! Alla torre! Avanti! Orca marina! Dov'è la torre? Di qua! Forza! Mortriamo i mongoli che siamo inarrestabili! di nuovo! Dov'è la torre! Svorto, Gini! Cominiamoli! Ho! 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 Alla faccia vostra Ok ragazzi E che se li fa avvicinare Non ralentare God Non ho altre navi Resisti Goru Ok Ok ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ah In cuor mio Tu sei sempre stato il mio erede Quando la guerra sarà finita Lo sarai ufficialmente Un giorno Il popolo guarderà a te per essere guidato Diventerai il loro onorevole Gito Sostenuto da tutti i poteri Dello Shogun Spero di servire il popolo come hai fatto tu So che lo farai Dobbiamo ultimare i preparativi In attesa dei rinforzi dello Shogun Quali sono gli ordini? Dobbiamo rinforzare le nostre fila Aiuta la tua amica a reclutare la gente di Yarikawa Presto vedrò Yuna Quando sei pronto Raggiungimi all'accampamento di Kubara Poi Sottrarremo il mio castello a Khotun Khan E salveremo il paese Come padre e figlio Perfino lo Shogun celebrerà la nostra vittoria Ci rivedremo presto Fino ad allora Fai attenzione Ok ragazzi Io mi stavo quasi mettendo a piangere Non è vero senza della parola Ok Anche questa è finita ragazzi E noi ci vediamo a breve Eccoci qua ragazzi Siamo arrivati finalmente alla fine E spero che vi siete divertiti Che vi sia piaciuto questo video E Che altro posso dire È stato molto bello Questa avventura Mi è piaciuta un sacco Mi è piaciuto un casino E oltretutto Vi ricordo di iscrivervi al canale Di lasciarmi un bel like Un bel pollicione in su E attivate la campanellina Per non perdere alcuna puntata Che metterò nei prossimi giorni Ciao a tutti Ci vediamo al prossimo video